Buona giornata. Non so perché mi è venuto in mente adesso, perché si parlava di quattro maggio, c'è l'apertura del coronavirus, c'è la parte due, uno e mezzo. Allora ho pensato al cinque maggio, una poesia che avevo imparato a scuola, a memoria, tutta, il cinque maggio dei Manzoni. E me la ricordo ancora, ma solo all'inizio. Ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia immemore, orba di tanto spiro, così percorsa e tonita, la terra non si sta. Questa me la ricordo ancora, però la sapevo tutta, fino in fondo, mamma mia, mutta pensando all'ultima ora dell'uomo fatale, ne sa quanto una simile orma di pie mortale, e così va avanti, va avanti, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto paragrafi, nove, dieci, undici, dodici, tutto a memoria, tre, quattro, adesso sto guardando il testo, mamma mia, tutto a memoria. E l'ho scritto sulle mani per dirlo di nascosto quando qualcosa non mi ricordavo. L'ultima frase diceva, in ultimi versi, tu delle stanchi ceneri, sperdi ogni ria parola, il Dio che a terra suscita, che affanna e che consola sulla destra coltrice, accanto a lui posò. Mamma mia, a cosa servite imparare memoria? Adesso la penso, giornate intere, imparare memoria, ripeto, ripeto, mai usata, cinquanta anni, sessanta che son passati, va bene, serviva per allenare la mente, mamma mia. Eh, bisogna imparare queste frasi qua, che dopo bisogna anche tradurle, perché sono complicate nel suo contorno. Solo questo, mi è venuto in mente questo, mamma mia, magari ancora si deve imparare così a scuola, a memoria, per allenare la mente, perché non ci sono altri sistemi per allenare la mente, no, 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 via, imparare la memoria, frasi. Ehi fu, siccome immobile dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così percossa e attonita, la terra non si osta. Muta pensando all'ultima ora dell'uomfaccio. Ehi fu, siccome immobile dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Così percossa, attonita, la terra all'unzio sta, muta pensando all'ultima ora dell'uomfaccio. Ne sa quando una simile orma di pie mortale, la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Sì, siccome immobile. E fu, siccome immobile. Lui, volgurante insomma. Dato il mortal sospiro? Dato il mortal sospiro? È uscito dal culo una specie di respiro. È uscito dal culo? Oh, ma che sta a dire? Fierino. Vai avanti. Così percossa e attonita. Così percossa e attonita. La terra annunzio sta? La terra annunzio sta? Mentre eravamo pronti tutti per neccacare. Ma cosa dici? Ma insomma, per favore!